come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità molto molto bene vi registro questo brevissimo video per informarvi che da oggi sono partite le lavorazioni dell'assegno di inclusioni adi di metà mese questo cosa vuol dire vuol dire semplicemente che nei prossimi giorni arriveranno poi le ricariche da parte dell'inps piccolo riassuntino questo pagamento spetta a chi ha richiesto per la prima volta il sussidio quindi per chi ha presentato domanda entro la fine del mese scorso con fatto di attivazione digitale quindi il pad sottoscritto nello stesso mese e con esito positivo dell'istruttoria ovviamente l'istruttoria cioè la doma istruttoria domanda ma chiamatela come volete tanto quello è deve essere deve avere esito positivo altrimenti uno sta lì ad aspettare qualcosa che poi magari in realtà non arriverà mai quindi mi raccomando controllate che il pad sia positivo ultima informazione per quanto riguarda l'isee potrebbe interessarvi potrebbe non interessarvi questo non lo so comunque io ve la dico nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva unica dsu di quest'anno non sia presentata in tempo utile per l'elaborazione della mensilità in arrivo ricordatevi che la domanda di adi viene messa nello stato che si chiama sospesa quindi praticamente la domanda viene sospesa ovviamente in attesa della disponibilità poi dell'isee e quindi cosa succede appena sarà poi disponibile l'isee aggiornato le eventuali mensilità pregresse che erano state messe nello stato di sospesa verranno poi recuperate con le mensilità successive bene questo era tutto l'aggiornamento di oggi io vi ringrazio per avermi guardato ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube a presto ciao